Il mio parto è stato un parto pilotato, nel senso che è dovuta nascere, cioè mi hanno subito iniettato l'ossitocina in modo che avesse le contrazioni perché non voleva nascere, cioè si apriva il parto e tutto, ma lei era un po' pigrotta, si vede stava bene nel grembo e non desiderava nascere. E quindi è stato un parto doloroso di per sé, anche il travaglio, molto doloroso. È durato poco sentendo le altre, ma il mio è stato proprio forzato, però quando è nata insomma, devo dire, il dolore è rimasto, ricordo, ma poi avere questa bambina tra le braccia insomma è stato bellissimo. Sapevo che mi hanno detto il perché, io sono ignorante in materia, voglio dire, dovevo fidarmi di loro. Se mi dicono guardi, il parto è aperto, dobbiamo usare questo per... lo fai, cioè, credo, non avevo modo di consultarmi con altri e quindi ho dovuto fidarmi di loro.